Ed ora diamo il benvenuto al nostro ospite in studio, l'esperto di applicazioni con i droni, Gianfrancesco Tiramani. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, innanzitutto vorrei parlare con lei, avere informazioni su questo progetto di aprire un campo di addestramento di droni a Piacenza. Sì, perché gli appassionati sono davvero tanti, sono centinaia coloro che nella nostra provincia hanno acquistato un piccolo drone, diciamo, per divertirsi, per giocare, ma cominciano a essere anche tanti, tante, in questo caso le persone che lo utilizzano a scopo professionale. Quindi è importante trovare un'area che rispetti i requisiti, soprattutto di distanza dagli aeroporti, e abbiamo San Damiano, che consenta appunto sia di sviluppare le proprie attività ludiche che di sperimentare le applicazioni professionali. Anche perché sono tante le applicazioni, per esempio, nel soccorso. Sì, è uno degli ambiti interessanti. Diciamo che i droni professionali stanno entrando più o meno in quasi tutte le attività umane, con una crescita davvero esponenziale che viaggia percentualmente a due cifre, e ogni giorno troviamo applicazioni nuove in ambiti che non ci si aspettava. Ecco, tra l'altro proprio la pubblica amministrazione di Piacenza in questi giorni si sta interessando all'uso dei droni. C'è un progetto che si chiama Waterlab. Sì, è un progetto del Consorzio di Bonifica Piacentino, che si appoggia all'Urbanab proprio a Piacenza, che è destinato all'utilizzo di droni per la gestione del territorio, in particolare per la gestione dell'acqua, ed è, credo, il primo Consorzio di Bonifica in Italia che si avvicina a questo mondo. È stata fatta una gara d'appalto, partirà qualcosa a molto breve a Piacenza, che mette insieme i droni e la stampa 3D, che sono due mondi che hanno un'area di sovrapposizione abbastanza estesa. Ecco, si avvicina al Natale, magari qualcuno sta pensando ad un acquisto di un drone per un regalo, però non sa quello a cui va incontro, qualcosa ha accenato già a lei, prima in realtà ci sono dei vincoli, dei limiti nell'utilizzo di questo strumento. Sì, è uno, quest'anno sta crescendo molto il desiderio, insomma, come gadget dei droni, anche perché la grande distribuzione già da qualche mese presenta la possibilità di acquistare anche droni per uso professionale. Bisogna sempre ricordare con molta attenzione che l'utilizzo di questi oggetti, anche quelli considerati giocattoli, deve farsi attraverso delle regole che sono molto chiare, quindi o aeromodellisti, ovvero l'utilizzo ludico sportivo, con alcune regole che riguardano la quota massima a cui si può andare in altezza, la distanza massima a cui si può volare, o l'utilizzo professionale. Ricordo, per esempio, che poi il vincolo della distanza degli aeroporti, come accennavo prima, è importante perché la provincia di Piacenza, per esempio, è coperta più della sua metà, è interessata al CTR, in una zona di controllo del traffico aereo, e gli aeromodelli in quest'area non possono volare. Per quello che riguarda l'attività professionale, le regole sono molto più stringenti, anche se, per esempio, nel CTR in parte si può volare a quote più basse, però informatevi bene, anche per i piccoli apparecchi, perché le conseguenze sono di tipo amministrativo e anche penale, ma soprattutto si può arrivare a far male a qualcuno, o nel malaugurato caso in cui il drone perda il controllo, può invadere lo spazio aereo e ricordo sempre, non c'è bisogno di andare molti in alto, pensando ai voli di linea, ma a quote molto basse troviamo l'elisoccorso, troviamo gli elicotteri della polizia, dei carabinieri, troviamo i deltaplani, quindi sono strumenti assolutamente sicuri, ma bisogna assolutamente rispettare le regole. Grazie a Gianfrancesco Tiramani. Grazie a voi. Grazie a tutti.